guardate una delle scogliere più belle d'italia non di livoglio d'italia qui siamo ad artignano guardate che insenature guardate che vegetazione guardate il mare guardate bene questa punta è la punta e le tamerisci venivano qua il 1850 camusi macchiaioli a dipingere siamo di settembre in un fratto questi sono gli ultimi sprazi del mare faccio una parte ho ripreso la ripresa scusate la cacofonia è un'altra regolazione di bellezza delle insenature il mare sta riposando nel senso che non è più infestato da tutte le bruttezze tutta la spazzatura di tutta la gente il paesaggio è quello stesso ma è cambiato in meglio dato che la cella più lunga dei bipedi una barca a dondolare sullo sfondo le solite 34 petroliere o comunque giganteschi giganti del mare insenature delle scuole percizionare sto